Buongiorno, siamo qui a SMAU a parlare di Digital Social Innovation, di quello che la Regione Piemonte vuole fare in questo campo che ci sembra un campo estremamente innovativo e su cui una pubblica amministrazione deve riuscire a cogliere le istanze che vengono dai cittadini, dalla società e dai territori. L'accento ovviamente è su Digital, Social Innovation è un movimento che sta crescendo dal basso, sta crescendo anche perché il welfare è in una fase di netto cambiamento e che propone tutta una serie di iniziative di cittadini, di associazioni che fanno delle cose che una volta faceva la pubblica amministrazione e possono farle anche molto meglio proprio perché conoscono meglio i bisogni che nascono all'interno dell'associazionismo stesso. Perché è importante il digitale? Il digitale è estremamente importante perché permette di mettere in rete queste esperienze, di fare in modo che queste esperienze che sono nuove non facciano quel passaggio che sta facendo per esempio la pubblica amministrazione o l'impresa tra l'informatizzazione e la digitalizzazione, ma diventino immediatamente digitali. Voglio portare una piccolissima esperienza nel tempo ridotto che ho, che è un'esperienza che stanno svolgendo dei comuni piccolissimi della provincia di Astri, coordinati dalla provincia stessa, in cui i ragazzi delle scuole, che sono stati formati appositamente in questo senso, vanno ad aiutare i sindaci dei piccoli comuni proponendosi di diventare i digital champions di quei comuni veramente sotto i mille abitanti molto piccoli e contemporaneamente, finisco, e contemporaneamente di creare un modello di casa domotica per per gli anziani dei loro territori.